Grazie a un processo dal quale si estrae la caseina, che è la proteina più importante del latte. È un processo che è nato negli anni 30 in Italia, quindi è un processo in realtà che ha quasi 100 anni. Il processo impiega un minor quantitativo di acqua rispetto agli altri e anche a livello di emissioni di CO2, ad esempio, è molto inferiore. Le nostre t-shirt rilassano gli amminosidi della caseina sulla pelle, quindi idratano la pelle.